Continuano gli appuntamenti musicali della rassegna Abbiamo un piano e non solo, che da metà novembre si alternano alla multisala Badiagrande di Sciacca. Questa sera ad esibirsi sarà il pianista Paolo Scanabissi, che ai nostri microfoni ci parla del suo concerto e della rassegna, da lui ideata assieme al patron della Vertigo Sino Caracappa. Che repertorio proporrà? Allora, proporò Chopin, Liste, Poulanque, Samuel Barber e Rachmaninov, un repertorio classico, a parte Barber che è un po' meno conosciuto ed è un tango. Io solitamente faccio dei repertori abbastanza classici e questa volta ci ho messo questo tango. Questa sera suonerai il suo pianoforte, infatti ricordiamo che grazie a lei e all'intuizione di Sino Caracappa ha preso il via questa rassegna dal titolo Abbiamo un piano e non solo. Beh, diciamo che, certo, è un'altra emozionante, ovviamente il fatto di avere concesso un pianoforte, diciamo, incomodato d'uso a Sino Caracappa non è un caso. Lui è una persona con molte risorse, molte idee e ovviamente da vari anni, per esempio, c'è l'Etherand in feste, lo Sciaccafin feste. Lui, diciamo, ha questa grande intuizione, secondo me, di rendere dei festival di arte. Ovviamente, certo che, ovviamente, c'è una parte specifica intestata, ovviamente, al cinema o alla lettura, però è molto bello l'aspetto di vedere l'arte proprio in generale e questo mi piace perché l'ho visto fare molti in Germania. Non bisogna ricordare, per esempio, le Hochschule, che a volte ci sono Hochschule di musica, teatro, tutto insieme. Cioè, secondo me, questo è l'aspetto molto bello. E mancava una rassegna musicale. Mancava una rassegna musicale. Ovviamente, certo, ovviamente c'è stata quest'idea a Trasino che, in effetti, l'idea è stata sua. E io, in effetti, l'ho accolta con entusiasmo, anche perché qua, nel territorio, in realtà, vedo molta cultura. Vedo questa cultura, però, diciamo, c'era bisogno di farla girare di più. Ovviamente, in effetti, è da due o tre anni che al Circo di Cultura fanno dei concerti. E hanno già anche dato loro un primo giro, diciamo. Però era importante estenderlo. Per esempio, adesso, in questi concerti, bisogna ricordare l'Istituto Toscanini, perché la cultura va vista anche nel territorio, ovviamente. Lei è bolognese, ma ormai è trapiantato a sciacca da diversi anni. Diciamo che, alla fine, io sono venuto inizialmente per, così, per una supplenza e poi un incarico. Poi la Sicilia mi è piaciuta, sciacca mi è piaciuta molto. Alla fine mi sono, come dire, innamorato del luogo e, anzi, ho comperato pure casa. E questa sera l'ultimo suo concerto. Ricordiamo l'appuntamento. Allora, il mio concerto è alle 20 e alla Sala degli Archi, nel complesso monumentale della Badia Grande. Grazie a tutti.